Eccoci ritrovati, allora come tutti venerdì, nell'ultima mezz'ora noi ci occupiamo di spettacolo di tendenza e oggi ospitiamo un'attrice che di... Simpaticissima A parte simpaticissima, io la vorrei definire spumeggiante, che è iniziato da giovanissima e soprattutto è iniziato per caso, perché è andata lì con l'amica e invece di scendere l'amica... Allora succede davvero, perché noi lo sentiamo sempre... Sempre ero al provino accompagnato l'amica, in questo caso è successo davvero, perché è una testimonianza vera e propria E allora la presentiamo, è con noi Vanessa Marini, buongiorno! Buongiorno a voi, è un piacere stare qui con voi Anche noi siamo molto contenti che tu sia venuta Allora Vanessa, hai iniziato giovanissima 17 anni A 17 anni con Biorzi? No, con la scuola, tutti si confondono invece con il film e la scuola Sì sì, perché sembravo più piccola Invece ho iniziato con la scuola Pensa e raccontaci come per caso, perché tra l'altro questa non è la prima volta che ti succede Ti accompagno un'amica e scelgo una cosa a me Allora è successo che questa mia amica, lei aveva 16 anni Cercano le ragazzette di 16 anni, una non più 17 Fa, mi accompagni a fare il provino? Fa, andiamo Allora, mentre stavano a scrivere il nominativo chiedevano anche il mio Fa, io non posso, 17 anni? Fa, ma stai scherzando? Va bene lo stesso Ci dividono a gruppi Dieci ragazze, dieci ragazzi Arrivato il mio turno, caro la decima Si dimenticano di me e chiamano direttamente il ragazzo dopo Allora fa, guarda vi siete dimenticati la ragazzetta che sta lì? No, non vi preoccupate, mi vergogno, vado via Fa, no, aspetta, aspetta Allora sono entrata, mi hanno chiamato Come è stato facendo questo provino? Io, no, veramente stavo andando via, mi avete richiamato voi Solo per questo si devono prendere No, veramente io stavo andando via, mi avete richiamato voi E così è andata Però io non pensavo che mi prendevano Invece è arrivata la telefonata a casa Guarda, sei stata presa per il film Ma io, dai, non scherzare, pensavo che era la mia amica Perché non l'avevo detto nessuno, anche i miei genitori Invece era veramente Perché tu l'avevi accompagnato in realtà questa amica Questa amica che non l'hanno preso Per fare però anche tu il provino No, no, io no Ti hanno buttato in mezzo? No, mi hanno buttato in mezzo Perché io sapevo che cercavano quelle di 16 anni Io ne ho 17 Ma la tua amica ti parla ancora oggi? Anche io, no Guarda, sinceramente ci siamo persi di vista Ma no per quella cosa Ci siamo persi di vista perché uno cresce, poi si sposa Sì, c'è Ma la reazione Purtroppo questa è curiosità La reazione dell'amica tua, qual è stata? Io però vi dico la verità A me mi regalò un corno Lei? Sì, però giuro Mi regalò un corno Il buono spiccio però Sì, sì, sì Vabbè Questa è una carina Guarda, in base Vanessa è questo Quando uno è amica È amica in qualsiasi circostanza Sì, sì, mi regalò proprio un corno Siamo fermata proprio al tabaccaio sotto casa Quando ha saputo che mi avevano preso Ma aspetta, aspetta, devo entrare Esce con questo Questo è per te che ti porti fortuna Grazie Guarda, ancora ce l'ho Che bello E a 17 anni Quando ti sei ritrovata Per caso su un set cinematografico Come è andata? Guarda, all'inizio è tutto un po' surreale Non ti rendi conto delle cose Ciò che stai facendo Rimane un po' così Ti rendi conto quando esce il film Quando poi esce il film E ti rendi conto Perché c'è tutta la gente Che ti ferma per strada Che ti fa le domande Fa, ma tu sei quella Che stai facendo il film La scuola E poi si ricorda la frase Oddio è caduto vasco Perché questo non è successo Adesso ce lo fai Ce lo fai sulla tre Oddio Sì Oddio è caduto vasco Da chi era diretta il film? Da Lucchetti Ah Sì Un giovanissimo anche lui Sì E poi invece è successo Che giorni fa Mi ha scritto uno su Instagram Che si ricordava la frase Guarda io ti seguo da una vita Che hai fatto il film alla scuola Perché ho detto Che grezza Oddio che grezza No Sì È una linea di un linguaggio giovanile Ancora oggi qualcuno lo dice a Roma Sì Perché di solito si ricorda solo Oddio è caduto vasco Infatti io sono rimasta Forse ti volevo dire Mi ha fatto diecimila vocali Era mezzanotte Senti scusa Devo dormire Te l'avevo detto Te l'avevo detto Che era spumeggiante La nostra Vanessa Senti Vanessa E dopo Dopo Lucchetti C'è stato Virzi Virzi o sbaglio Bravissima C'è stato Virzi C'è stato Virzi Che ci ha visto Che avevo fatto il film a scuola Un'altra ragazza Ha prominato E poi avevamo tantissima Alla fine ha scelto me Però quella volta Si è andata da sola Senza amiche Si è andata da sola Sabrina Mazzalupi Sì E serviva invece Una ragazzina Con l'apparecchio Infatti mi fecero fare L'apparecchio di scena Infatti parlavo Tutta così Ma Si perché ricordaci Questa Sabrina Chi è in Ferri d'Agosto? È la figlia di Ennio Fantastichini Ah ecco È vero È vero È grande Sì È di Paola Tiziana Cruciani Ah Nipote Adesso lo diciamo anche Visto che ci siamo Di Sabrina Ferilli E Piero Natoli È un film È un film Meraviglioso Un cast Veramente Spettacolare Mi fecero fare Questo apparecchio Di scena E come è stato Tu quanti anni avevi Su quel set? L'anno dopo 18 E com'è stato Lavorare con questi grandi Forse all'epoca Neanche te ne rendi conto Bravissima All'inizio non te ne rendi conto Ma eravamo tutti Una grande famiglia Perché ci siamo ritrovati Tutti quanti a ventotene Tutti insieme Bellissimo Sì perciò stavamo Tutti insieme Con Ennio Con Emiliano Bianchi Che è quello che ha fatto Ivan Che faceva il mio fidanzato Fidanzato no Vabbè Ti sarebbe piaciuto però Perché ti piaceva qualcuno Mi piaceva lui Sì Ero innamorata di lui Sì E lui invece Mi ha lasciato lì sul molo Che urlavo È vero Pippa ti amo Urlavo Vogliamo Come dire Rivolgere un pensiero A uno fantastichini Che non c'è più Perché è stato veramente Un attore straordinario È stato troppo presto E manca a tutti noi Beh devo dire Che su quel film Ce n'erano più di uno Ero Natoli anche Ebbè Poi è vero Poi anche Piero Natoli Il fratello di Carlotta Natoli Il trattanto brava Il padre Il padre Il padre Scusate Sì per il tempo Non è rimasto indietro È il padre Il papà Sì 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 Che era anche lui Un grandissimo Attore e artista Soprattutto Ma soprattutto In questi giorni Dopo la notizia Venerdì scorso Tra l'altro A me l'ha data Tommaso Martinelli In anteprima Che salutiamo Ciao Tommaso Un bacio Che della morte Di Maurizio Costanzo Tu non possiamo vedere le immagini Però tu sei stata ospite Al Maurizio Costanzo Nel 2000 Nel 2000 Subito dopo questo film No Oh ma allora Cioè Lì quello era il 95 Mi viene in giro No il 2000 Era quando ho fatto La pubblicità Della posta prioritaria Ecco E' stato un cult Sì Perché ero Mi arrivava una lettera Perché ogni volta Che mi scriveva il bigliettino Questo fidanzato Questo No si è sempre fidanzato Quello che non c'ho Io dico sempre fidanzato Sì Portasse bene Che trovo un fidanzato Allora stavo dicendo Che Cioè era Questo che era innamorato di me Questo attore E mi scriveva tutti i bigliettini E ogni volta io non lo gevo Perché mi cadeva Quelli E finalmente Mi manda questa lettera Con scritto Sabrina Con 50 bit Ti amo Sì Intanto li stiamo vedendo Nelle foto Sabrina Ferilli Com'è stato Lavorare con lei A proposito di Sabrina Lei è fantastica È fantastica Simpaticissima Alla mano Come tutti gli attori Che ho lavorato Devo essere sincera Che bello Mi sono sempre trovata Benissimo Con tutti quanti Eh sì sì E insomma Dicevi di Maurizio Costanzo Allora stavamo dicendo Che era il 2000 Dopo che ho fatto Questa pubblicità Sì sono stata lì Ospite da lui E sarà una grande emozione Infatti la sua perdita Ti ha toccato Sì molto Ma sì Poi una persona fantastica Maurizio Lo guardavamo Penso un po' tutti Eh certo Maurizio Costanzo Ho avuto anche l'onore Di stare sul palco con lui Sul palco del Teatro Parioli E Simone Devi sapere Che subito dopo No Tutti questi Questi lavori Questi set Sì Vanessa Ha deciso di cambiare È cambiata vita Improvvisamente Ha cambiato vita È informatissima lei Ma noi aspettiamo Il sequel di Ferri d'Agosto E tu ci dici No aspetta No aspetta No aspetta Sì è andata un po' avanti C'è tutto un altro percorso Perché dopo questo percorso Artista Allora lei è passato All'adolescenza sul set Dopodiché subito dopo All'adolescenza Quando si arriva Nei 24 25 anni Sì 23 Sì Subito dopo Dice Basta Voglio cambiare vita Davide ho fatto poi il film Con Giulia Roberts Ah è vero Dopo quello Nel 2000 Sì 2001 Regista Ryan Murphy Mangia Pregama 2001 se non mi sbaglio Adesso le date Non me le ricordo Tutti a me Che facevi in Mangia Pregama? La commessa Ah è vero Facevo la commessa Hai sbloccato un ricordo Sì sì L'episodio quello girato a Roma Ovviamente Sì bravissimo A Campo dei Fiori Sì sì Quanto è bella Giulia Roberts Stupenda Quello sorriso Meraviglioso Proprio alla mano Si Si vede E lì Perché hai deciso di Secondo me è stata la commessa Il ruolo Ti è piaciuto fare la commessa? No Quello è un film catartico Quello è un film catartico È successo perché Adesso ritorniamo al discorso Che diceva prima Anna Maria Accompagno una mia amica Capito? Certo Certo Simone ovviamente Non ci facciamo mai accompagnare No sto scherzando Accompagno una mia amica Perché doveva Lasciare un curriculum Che voleva fare la commessa Questo subito Dopo mangia pregama Bravissima Allora succede questo Ah no però era il 2011 Mangia pregama Non me lo ricordo Sì sì Era 2011 Vabbè comunque Accompagno questa mia amica Doveva fare Lasciare un curriculum Tutto quanto Mi guarda La titolare Perché io ero cliente Lì che mi investiva In questo negozio In questo negozio Senti tu domani Che c'è da fare Io Niente perché Perché non mi vedeva A lavorare A via del corso Decevano proprio A fare la commessa Perché sei proprio brava Così Perché ogni volta Che io mi compravo le cose E me le misuravo Cioè ho le ragazze davanti Che dici questo mi sta bene Io no aspetta Questo mi sta bene Prendi quest'altro Se ne accorgevano Anche i didolari E così è fatto Vabbè Ma sarebbe un sogno E essere servita Da una ragazza Così simpatica Secondo me Insomma Vabbè Ma l'amica tua L'hanno presa a lavorare No Doveva che ti accompagna Anna Maria No Dimmelo Sono impegnata Ti accompagno volentieri Dimmi E ci sei andata a avere il corso? Sì Sì Cioè lei è così Ci sei rimasta quanto tempo? Oddio Poi ha chiuso Penso tre anni Non poco Sì sì Poi è chiuso E ti è piaciuto? Sì sì mi divertivo Anzi sono ancora amica Con le didolari No le didolari Non so che fine ha fatto Con le ragazze Ah ok Con le ragazze sono ancora amica Però scusa Perché hai deciso di Abbandonare Momentaneamente Magari con l'idea Di riprendere in un futuro? C'è stato un Fattore scatenante? No assolutamente Perché ho detto Vabbè cambiamo un pochetto Perché può capitare No Allora Abbiamo 365 giorni all'anno Giusto? Allora fa finta che Un set Giriamo due mesi Perciò rimangono Dieci mesi Dieci mesi Non facciamo il calcolo Sì che mi piace Poi è successo pure Mi hanno chiamato Ho fatto dio Però sto lavorando È rimasta l'intendante E quello è stata colpa mia Perché io feciò Poi invece è successo Che l'anno scorso Mi ha contattata Massimo Paolucci Per fare una parte In un film Ho detto Ritorniamo Ritorniamo in careggiata Perché molte persone Mi scrivono su Instagram Anche persone grandi O ragazzine Che gli sono rimasta Così impressa Di Ferri d'Agosto Dopo vi faccio leggere Tutti i messaggi Rifannete così Che sono carinissimi E riproviamo E' successo Che sono tornata in careggiata Quindi tu in quegli anni Non hai continuato a fare provini? No 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 assolutamente Ho cambiato vita Però la gente si ricordava tutti Di Ferri d'Agosto E la scuola E beh certo Comunque sono due film cult Sì Della storia del cinema italiano Quindi E tu ne fai parte Sì Ma ci guardiamo qualcosina? Dalla regia ci sei Samuel? Ok Guardiamo Guardiamo qualcosina Di Vanessa Marini Francia Io ti amo Ti amo Adesso dire una cosa In chiesa ho sentito Un vero strano Tipo che qualcuno Ti faceva una canna Ma no Era l'incenso Perché adesso Si fanno le canne pure Con l'incenso? Ma che dici Silvana? Vabbè ma io che ne so Dimmi che è vero Ma no Non lo vedi E' Kenny il marito della Barbie Perché dici che non è un figo? Non so Guarda A me mi si stanno rivoltando Tutte le viscere Oddio Santo che il fancras Mi si sta torcigliando Oddio Oddio Sta venendo qui Scusa vai Sei giovane Simpatica e fritta Ma se a te non piace Forse Dai e vai Silvana Oddio Stefania Rocca Si Simona Cavallari era Non c'era No ho visto anche Stefania Rocca Ah vabbè Parlando con Simona Cavallari Tutte e due Ma poi quel fan Lì al picnic Roberto Com'è andata? Guarda io ancora lo sento Perché abbiamo girato insieme Soldato sotto la luna Ah Sì Sì Pensa E c'è ancora questo Suffo biondo Sì Davvero Adesso c'ha capelli lunghissimi Fino a qua Sì Davvero Sì Sì Senti Vanessa Tu sei molto spumeggiante Piena di cambiamento Ti abbiamo visto anche in due film dove eri completamente diversa sia nel primo ruolo che nel secondo E anche la tua vita no è così sempre alla scoperta alla sorpresa in cerca di sorpresa in questo momento dalla ragazzina di 17 anni che eri nel film di la scuola ad adesso A 46 anni A 46 anni Possiamo pure dirlo Se lo dici Come ti senti? Cosa è cambiato nella tua vita? In te come persona non come attrice? Ora come persona io sono rimasta sempre uguale mi ricordo Cioè sempre persona semplice, umile, la ragazza della porta accanto sempre così Sì E anche quello che noi percepiamo Si vede Si sono rimasta sempre la stessa Ma cosa è cambiato dentro di te veramente? Da 17 adesso hai una consapevolezza Adesso si sei più responsabile di molte cose Sei più consapevole di molte cose Ma hai dei rimpianti? No 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 Quindi tutto quello che hai fatto tu sei contenta che è andata così la tua vita? Però è un sogno nel cassetto, io lo so Lavorare con Carlo Verdura Ma questo l'hai letto, l'hai letto nell'intervista Sì Io lo amo Lo amo Infatti dovrebbe fare un film Perché poi mi piace lavorare anche di nuovo con Giallini e Sabina Ferilli Siamo tutti romani Che ci hai lavorato? Sì Con entrambi Siamo tutti romani E' una cosa bellissima no? Eh sì Ci mettiamo pure Cristian De Siga Cristian De Siga lo amiamo tutti Lo amiamo tutti Senti Vanessa allora noi oggi facciamo un gioco E lo inauguriamo con te vero Simone? Sì Lo inauguriamo con te Un battesimo di fuoco Un battesimo di fuoco Allora visto che tu sei un'attrice Sì Adesso noi ti diamo un leggio Cioè chi l'ha fatto prima? Ti dico ti do solo questo inizio C'è un grande della storia del cinema italiano che l'ha fatto prima di te In diretta su Rai 1 Quindi noi stiamo emulando un grande Oddio Che responsabilità Adesso io ti do un leggio Sì Una musica di fondo E tu mi devi interpretare Faccio io la regista Mi devi interpretare In Con fare Drammatico E serio Sì Quello che c'è scritto Drammatico? Drammatico Ma proprio drammatico Ti hanno Ti hanno strappato il cuore Quindi è veramente Una scena drammatica Ok Quello che c'è scritto Preparo Simone intrattieni Io preparo la scena Vai Drammatico Il regista e il balletta Sì Il bello della diretta Mi alzo? Ecco io ti do Sì ti puoi alzare se vuoi Ti puoi alzare? Sì certo Io ti do Aspetta che mi Perdo qualcosa? No no Chiediamo alla regia Chiediamo Ecco Questo Il primo Drammatico Drammaticissimo Mettiamo una musica di fondo Mi sposto scusate Mettiamo una musica di fondo Adatta Samuel A questo momento Guardando nella tre Mi raccomando Ti guardo nella tre Drammatico Aspetta fino a meno Sì sì tutto Quell'altro No Solo quello Solo quello Sentiamo Più che da Matico Beverebbe il nostro No 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 Deve essere La regia ha detto così Mi piatti pasta regatoni con la pagliata Lire Sette mila lire Pasta e fagioli 200 mila lire Secondi piatti Rognone filottato Scusate mi pensavo a guarda in camera 600 mila lire 600 mila lire Dessert Frutta secca di stagione Torta della nonna Tiramisu Servizio incluso In aggiunta al menù Giovedì gnocchi Sabato Trippa Bravissima E' uno scherzo difficile questo Perché Perché C'era la piange perché è carissimo questo menù Ma se è carissimo in lire 600 mila lire Era carissimo Era un ristorante stellato Ma ricordiamo 600 mila lire Ricompongo lo studio Samuel Lo ricompongo Scusi Grazie L'hai chiesto tanto Gentilissima Gentilissima E allora Ho ricomposto lo studio Allora noi ti abbiamo voluto Vogliamo Abbiamo voluto inaugurare questo gioco Con te Ma ricordiamolo Che questo l'ha fatto il grande Vittorio Gasman Sul Rai 1 Lui che leggeva I menù Leggeva Leggeva soprattutto Le analisi cliniche Ci sarà qualche tuo collega Che cadrà nelle analisi cliniche Vero Simone? Eh sì Quindi E' un gioco Che ci siamo divertiti Certo Ma soprattutto Menù Dramaticato il menù È un pianto più che drammatico Senti Vanessa Progetti futuri? Sì Allora devo girare a breve Brevissimo Brevissimo È informatissima Visto Informatissima Che ti seguo sui social Wow Che emozione Anche io ti seguo Sai Il passo del vento Sempre di Massimo Paolucci Sì Ti interpreti? Non posso dire Eh no Però ti posso dire Che è un thriller degli anni settanta Ancora non posso dire altro Un thriller? Sì Degli anni settanta È un genere diverso Sì Cambiamo Sei contenta? Sì Sì Almeno così non faccio sempre la simpatica Facciamo pure qualche altra cosa No? No Questo è vero però E dopo questo momento cosa farai? Dopo che girerai il film? Eh che ne so Magari cambierai vita Ti troviamo astronauta Non si che vengo qui con te Facciamo in tre No Facciamo tre conduttori Certo Come no? Ti piacerebbe È il cambiamento di Vanessa Marini L'amore La bionda Lui centrale Perfetto Lui è il bello Sì Noi siamo le ballette Noi siamo le fighe Sì Fighissime Noi siamo le fighe Scusa Certo Hai ragione Vanessa Sei spumeggiante Grazie Grazie per essere stata con noi oggi Grazie Tra l'altro Simone Devi sapere che lei è una nostra fan Perché ci segue sempre Eh ma me l'ha detto Ieri ha apprezzato molto Il balletto con Gioia Ballerina Ormai io e Anna Maria Siamo diventati I ballerini provetti Ti proviamo La mettiamo La mettiamo sulla simpatia Anna Maria è bravissima Devo dire Eh vabbè Io un po' meno Perché insomma Sono un po' lampanato Vabbè però Mi sono diventato bravissima Nel tempo Vado a prendere un omaggio Te lo faccio dare da Simone Così Ci possiamo incalzare Smetto di fare la valletta Ti posso dare anche un bacio È stato un piacere Conoscerti Sono un grande fan di Ferri d'Agosto Grazie Grazie mille Santissimo Eh sì Hai visto È così Grazie È stato un piacere Grazie Grazie a voi Grazie per essere stata con noi Allora Resta con noi Santiamo i nostri telespettatori Per questa settimana Arrivo a venerdì Stanchi ma felici Felici di aver chiuso con Vanessa Ci hai portato questa ventata Di allegria Grazie mille È stato E noi ci vediamo E allora noi ci vediamo Lunedì Eh sì 9.30 come sempre Canale 264 Le digitali terrestre Con Mattina con noi Buon fine settimana Ciao Ciao Ciao